Greco Samuele, ragazzo di 15 anni di Livorno, mi pone delle domande e a cui cerco di dargli delle risposte. Lui pesca fuori la diga a Bollentino davanti al Calambrone che è un po' vicino a Livorno e mi descrive un po' dell'attrezzatura per pescare l'orate, per pescare un po' tutto dal pagello all'orata e mi chiede se ci sono delle varianti, delle modifiche. Allora, l'orate come esca all'americano va bene, è una delle esche che predilicano e poi alternarle anche a innescare il bibi infilato con l'ago e quindi senza scoppiarlo come si dice in gergo. Funziona molto bene anche il granchio, il granchio di sabbia o il granchio verde di laguna. I granchi li utilizziamo quando ci sono dei pesci più grandi e fanno già una selezione per sé come esca e oppure si utilizzano i granchi quando c'è una forte mangianza, quando te non riesci a stare in pesca con i vermi perché ci sono granchietti, chioccioline, stelline che ti divorano l'esca, a quel punto funziona molto bene l'utilizzo dei granchi.